Pronto? Dove sei? E dove sto? Al supermercato, a fammi, la fa la spesa. Ah, hai avuto la lista che ti ho inviato? L'ho avuto e l'ho anche stampato, tranquillo. Bravissimo, allora vedi dove dici due litri di latte? Sta qua, due litri, beh. Devi prendere quello della centrale. Eh, noi prendiamo sempre il barilatte. Eh, quello della centrale c'è in offerta, però non devi prendere due litri, devi prendere cinque litri. Cinque litri, ti porto la mucca se vuoi. Ehi, cretino, l'offerta è su cinque litri, se prendi cinque litri di latte ti fanno il 5% di sconto. Ho capito, ma se prendo cinque litri poi quello scade, scusa. E te l'ho bevito? Io, per avere lo sconto mi devo bere il latte acido la mattina. E te lo bevi come yogurt la sera? Vabbè, chiudi, ciao, 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 ciao.